Grazie a tutti i presenti, a chi ci ospita, al Centro Machiavelli, a Daniele Scalea per l'iniziativa e per questa introduzione così centrata e a Stefano Graziosi per il dossier che avete tutti e che io credo sia veramente prezioso, non si poteva dire e scrivere meglio. Quindi considerate quello che sto per dire nulla più se non degli emendamenti aggiuntivi che spero Stefano e Daniele vogliano prendere in considerazione. Io ho pubblicato all'inizio di ottobre un piccolo libro, per la tempistica della macchina editoriale italiana quel libro è stato, per forza di cose, consegnato negli ultimi giorni di agosto. Ecco, molti mesi dopo se dovessi riscriverlo non ne cambierei neppure una virgola. Perché? Perché a me pareva e pare tuttora che il centrodestra dovesse, debba, confrontarsi con una equazione politica con un certo numero di incognite. Intanto, siamo tra persone informate sui fatti, consentite a chi è definitivamente fuori dalla politica di fare un'osservazione schiettamente politica. Se tu hai tre partiti, uno dei quali è orgogliosamente all'opposizione, un altro dei quali è al governo e quasi sempre contento di ciò che il governo fa, e un altro che sta al governo e spesso non contento, motivatamente non contento di ciò che il governo fa, comprendi bene che tenere insieme queste tre posizioni è veramente un esercizio complicato. Qual era allora lo scopo ottimistico di quel piccolo lavoro editoriale? Per un verso, offrire un po' di discussione sul terreno dei contenuti, del software, delle idee, naturalmente per forza di cose si tratta di materiale, suggerimenti e suggestioni opinabili, proposte esattamente per aprire la discussione. Per altro verso, e siamo alla conferenza di oggi, capire come provare a immaginare un'architettura invece, per tenere dentro il dibattito delle idee. Avendo in mente tre questioni preliminari. La prima, che era vera in estate e mi pare ancora più vera oggi. Occhio, amici di centrodestra, soprattutto impegnati direttamente in politica, occhio alla trappola dei sondaggi. Uno vede i sondaggi in televisione e lasciate perdere quale dei tre partiti guardiate per primo, ma se uno dice 18-19, più 17-18, più 8-9, allora tutti insieme, non siamo lontani da 50 e siamo molto sopra tutti quegli altri. Poi vai a vedere bene, non so, non risponde, astenuto, 46. Poi vai a vedere bene il risultato delle ultime amministrative e scopri che proprio il tuo risultato come centrodestra, negativo, è stato determinato dall'astenzione dei tuoi elettori. Quindi tu hai un problema, l'inganno dei sondaggi, o se vuoi, la tua difficoltà di mobilitare il tuo elettorato potenziale, chiamiamole cose con il loro nome, hai differenze profonde, una competizione anche, diciamolo, ruvida, un attrito forte tra, soprattutto due partiti che per forza di cose si sono trovati in questi anni a concentrarsi molto spesso sul medesimo bacino elettorale, nella convinzione, valutazione, ditemi voi giusta o sbagliata, di un processo osmotico per cui un po' di voti te li prendo io, li rubo a te, salgo io, scendi tu, quasi più con una preoccupazione di pescare nello stesso bacino che non invece magari di cercare altri bacini, altre potenzialità di allargamento della torta elettorale. E allora come si fa davanti a tutte queste incognite scritte sulla lavagna nella frase principale dell'equazione? Per i miei gusti la soluzione principale è quella britannica del Partito Conservatore o statunitense del Partito Repubblicano. Questo testo di Stefano lo spiega benissimo. Se posso aggiungere una cosa più culturale che politica, andrebbe ripreso e affisso nei muri dei tre partiti, quel testo che un signore, beato lui, molto ricco, era anche un bel signore, si chiamava William Buckley Jr., nel 1955, fondatore di National Review, propose a tutti, fusionismo, insomma qui bisogna mettere insieme tutti quelli, diceva lui, che sono contro lo stalinismo e per il mercato. Fino a qualche tempo fa avrei detto no, un problema di stalinismo non si pone, ora potremmo dire che si pone un problema e di stalinismo e di mercato. Fusionismo è una parola che può impressionare in negativo, se interpretata nel senso di fare una specie di marmellata in cui si mischia tutto, Dio ce ne scampi. è invece una parola magica in positivo, se allude, come già faceva Daniele nella sua introduzione così felice, alla coesistenza sotto una grande tenda di realtà, culture diverse, nelle quali, diciamo, nessuno deve rinunciare a nulla di se stesso, ciascuno tenga i libri che preferisce sul suo scaffale. Vorrei dire, l'unico problema è se ci fossero scaffali senza libri, anzi, vivano biblioteche, centri studi, associazioni, riviste, giornali, luoghi di elaborazione, e quelli più laici, e quelli più cattolici, e quelli più di destra nazionale, e quelli più federalisti, e quelli più libertari, e quelli più libertari. Le mille nuance, i mille colori della tavolozza convivano tutti nella tavolozza, anzi, nessuno amputi nulla della sua cultura. È fondamentale, non solo per, diciamo, il benessere psicofisico e politico di ciascuno, avere un luogo di elaborazione dove tu ti senta pienamente a casa tua, ma è fondamentale anche ai fini elettorali, per il benessere di tutti, che nulla venga perso, che ogni segmento sociale della tua area potenziale abbia una offerta culturale. Dopodiché cerchiamo di metterci invece d'accordo su due o tre cose essenziali, essenzialmente economiche, che siano la base della campagna elettorale, e su un meccanismo di selezione del tuo campione, del tuo candidato presidente in quel contesto, candidato premier qui, diciamo, indirettamente, ma insomma ci siamo capiti. Questo era ed è il ragionamento. La sto facendo troppo lunga, prendo ancora tre minuti per sviluppare l'ultima parte del ragionamento. Naturalmente, avendo tutti senso della realtà e, ove mancasse senso della realtà, almeno un po' di senso dell'umorismo, comprendiamo bene che l'idea di un partito repubblicano o di un partito conservatore, oggi in Italia, con tre partiti, così, ciascuno, orgoglioso, è una cosa che, diciamo, avrà, speriamo, prendere a colpo per le elezioni politiche del 2033 o del 2038. Ok? Bene, non è un progetto per l'oggi. Però, almeno, la discussione è fondamentale e, nell'attesa, invece, non per fra 15 anni, ma per fra 15 minuti, so che anche questo appare velleitario ai realisti, però i realisti poi rischiano di fare i conti con i sondaggi di cui dicevo prima, 20 più 18, eh, e poi i tuoi non vanno a votare. Questo lo diciamo ai realisti, troppo realisti. Almeno provate a ragionare su questa apparente follia delle primarie, compatibili anche con un assetto, diciamo, all'italiana, pluripartitico, cioè, che persone stai proponendo le primarie del PD? Dio ce ne scampi e liberi? Ovviamente no, 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 no. Ma cercare, questo sì, di adattare allo schema italiano, lo schema delle primarie statunitensi, quindi di una corsa a tappe, lì, stato per stato, qui, regione per regione, territorio per territorio, una convention finale, a me sembra, sembrerebbe, un'operazione win-win. Chiudete un istante gli occhi, provate ad immaginarla applicata anche all'assetto attuale del centrodestra, tu avresti esattamente quella gara di idee di cui hai bisogno, perché le diverse candidature segnalerebbero ciascuna un'area culturale, un'area politica, stimoli nuovi, chi parte avanti, chi recupera da dietro, chi mostra capacità di dare rappresentanza a mondi produttivi, a pezzi di società, chi ha più filo da tessere, eccetera, eccetera. Uno. Due. Avresti anche la possibilità di fare sì che quella competizione che è nelle cose non sia umanamente ruvida e spigolosa o, peggio, giocata sugli aspetti più, diciamolo pure, di politica deteriore. Ah, quel consigliere regionale dell'Umbria viene con me, viene con te, cose non appassionanti. Terzo. Avresti la possibilità di portare la competizione, anziché, diciamo, sul piano interno all'elettorato che già hai, per chi voto per questa lista o per quest'altra lista, di portarlo verso l'esterno, cercando di rivolgerti a un pezzo maggiore di elettorato, allargando la torta con beneficio per tutti. E quarto, scusa se è poco, renderesti, non impossibile, perché impossibile, ma un po' più difficile il tradimento finale del solito centrista furbetto. Eh no, se hai partecipato anche tu alla corsa, hai partecipato alla convention, non è che poi all'ultimo momento mi fai... Quinto, che è la cosa decisiva, parti con 4-5 mesi di vantaggio. Cioè, hai esattamente bisogno della mobilitazione, hai esattamente bisogno di provare a non perdere per strada né il 10, né il 20, né il 30 del tuo elettorato potenziale, ma tendenzialmente di arrivare all'85, 90, al massimo possibile di partecipazione dei tuoi, è quale metodo migliore, se non questo, una sfida appassionata in cui, nei limiti che conosciamo, potresti anche un pochino dominare tu l'agenda mediatica, perché quello diventa lo spettacolo. Nella laicrazia, che pure ci fa disperare, per cui la politica è diventata X-factor, e quindi ognuno è costretto a votare per quello che ti pare più simpatico in un momento, dicendo, oddio, ma come si fa? Eh ok, però questa è la gorà, nella quale dobbiamo fare la nostra battaglia delle idee, cerchiamo di inventarci una cosa che si ha anche dal punto di vista mediatico, tale da mettersi in comunicazione con tutti, con chi la politica la mastica, con chi la mastica meno, con chi ne può percepire l'aspetto anche emotivo, eccetera, a me sembra un'operazione che, sui giovani, sull'elettorato non politico, sull'elettorato anche anziano, per ragioni diverse, può portarti a riempire la tua piazza prima ancora che le urne si aprano. La faccio troppo facile? Forse. Però, facciamo l'operazione controintuitiva. E se non si fa niente di tutto questo, ok? E si procede come se nulla fosse. Una bella lite ogni giorno, a settimana, eccetera, le polemiche, le interviste spiacevoli dell'uno, dell'altro sui giornali. Poi, una bella contesa, regione per regione, sulle liste, quello lo metto in lista io, il giorno prima, tutta una campagna elettorale in cui l'avversario non sarà Enrico Letta, ma sarà il tuo vicino di casa a cui devi rubare il voto, e il giorno dopo ho vinto io, hai perso tu, eccetera. Una situazione nella quale rischi di avere soltanto attriti, ferite e cicatrici prima, durante e dopo. Quindi, probabilmente lo schema che proponiamo è eccessivamente ottimistico. Però, guardate che forse anche il non far nulla presenta dei rischi che non andrebbero sottovalutati. Grazie. Grazie.